Nuove fatiche editoriali per lo scrittore genovese Piero A. Piscitelli. Autore di diversi saggi e libri, Piscitelli negli ultimi anni si è dedicato ai romanzi polizieschi, scandagliando la vita di due commissari. Dopo il successo del 2023 di Piacere Terentilio, commissario ed eroe solitario, testimone silenzioso della vita che scorre, amato e detestato dal questore di turno, che ha trovato lettori attenti al suo fianco, ecco adesso Piscitelli presentarsi al pubblico con un collega di Terentilio, il commissario della Polizia di Stato, Giuseppe Piscopo, peppino per gli amici, anche egli pugliese trapiantato a Genova, ma diametralmente opposto a Terentilio. Piscopo gestisce male i casi che gli si presentano, che spesso lo trascinano verso il crimine. Il libro I demoni del commissario Piscopo racconta proprio questo. Dopo il libro Piacere Terentilio, un romanzo composto da nove racconti che trattano della vita di questo commissario Terentilio di Terrizzo, ho fatto un nuovo personaggio, ho tirato fuori un nuovo personaggio che è l'alter ego in negativo di Terentilio. Perché è negativo? Perché seguendo un po' la logica del realismo magico, nella vita di un personaggio che potrebbe essere Terentilio, possono capitare dall'alto cose non previste nella vita che ti portano a cambiare completamente la tua posizione nel mondo circostante. Difatti, il nuovo personaggio che ho presentato da Feltrinelli è il commissario Piscopo, detto Toshiro perché ha gli occhi a mandorla e si comporta come l'attore Toshiro Mifune con le alzate di spalla e così via. Altro non è che un Terentilio nato sempre in un paese della Puglia, che vive per lavoro a Genova, però è costretto a subire degli eventi che gli capitano dall'alto e che gestisce in una maniera così sbagliata che passa lui dalla parte del crimine. Dopo questo libro sarà presentato a Savona la continuazione di questo Piscopo sotto la torretta, ambientato nella città di Savona. Come è stato detto da un presentatore, un blogger molto molto esperto di letteratura, eccetera, io presento questi personaggi e poi li congedo, al contrario di Pirandello, i cui personaggi cercavano un autore. Ricordiamo che i due libri sono polisensoriali e si possono quindi leggere, guardare o ascoltare inquadrando con il cellulare i view code presenti sui libri stessi. Grazie.